Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao a tutti. Vi devo dire che a Milano il vento sta cambiando, probabilmente è già cambiato, ma dipende anche da voi. So che avete deciso e ne sono molto lieto che da città bellissime come Barcellona, come Parigi, come Berlino, come Londra e tante altre, siete pronti a venire a Milano, a Milano per votare il giorno del balottaggio. Il vostro voto può essere decisivo. Io vi ringrazio, vi ringrazio di cuore perché potete essere quel elemento di più che dà la certezza che anche a Milano cambierà il vento. Anche Milano ritornerà ad essere una città allegra, lieta, accogliente, soprattutto per i giovani, ma anche per i non giovani, per chi non ha lavoro, per chi vive una vita precaria, per gli studenti che vogliono ritornare a Milano per vivere nella loro città con gioia, con felicità e soprattutto con prospettive per il presente e per il futuro. Sono sicuro che ci sarete, sono sicuro che in questi giorni convincerete anche qualche di un altro a venire a Milano. Io vi ringrazio e vi assicuro, vi garantisco che insieme libereremo Milano, insieme faremo Milano una città del futuro, la città che vi piacerà come vi piacciono oggi e le città in cui state studiando o state vivendo. Grazie di cuore. Ciao Milano e ciao a tutti i milanesi all'estero, qui a Parigi. Ciao Milano, siamo a Berlino. No, ma il 30 torniamo a Milano. E noi torniamo a Milano. Poi c'è questa pizza. Quello che sta dicendo è, torna a Milano. Perché è il momento buono per fare veramente cambiare Milano. Giuliano, per la prima volta ci crediamo, è per questo che torniamo. Dai Giuliano! Lui se potesse, potrebbe Pisapia. Ragazzi, ora che siete pronti a partire, vi lanciamo una sfida. Contateci le peripezie che affronterete per rincorrere un'idea. La nostra idea. Giuliano Pisapia, sindaco per Milano. Raccontateci gli scali, le scale, le code interminabili. Raccontateci gli zaini strapieni, i mezzi di fortuna e quelli di sfortuna. I voli, poco low e molto costo. Raccontateci i ritardi, il tramezzino precotto, lo skateboard, il deltaplano. Raccontateci la mongolfiera con la quale siete venute qui. Raccontateci le vostre occhiaie e i vostri sorrisi. Insomma, tutto quello che volete per provare la vostra determinazione. Vi chiediamo di postare tutto questo, anche in tempo reale, sulla nostra pagina Facebook Torno a Milano per votare Pisapia. E sul nostro canale YouTube Torno a votare 2011. C'è una nuova classe dirigente che sta nascendo. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Nosi ultimi quanto, fai con uoci in Ukrainiani. Mi era però mai un paio d'ex am blanks. E anche a fin si era una nuova classe, mia noia ho ansambra. Noia ho gayo. E anche a finisti e a me refusione. Dio, guardateci i nostri sorrisi e buono sullizione che voi despertateci